Continua la tradizione, continuo il mio impegno per la mia città e era dovuto anche quest'anno riproporre l'albero di Natale in piazza a stazione. Penso che è una cosa importante perché tutti i miei argentini debbano avere un albero di Natale, ma un albero di Natale come si deve. È una conifera di 12 mesi che è stata donata dalla forestale, viene dal Bosco di Grotte, è stato portato qui per un'operazione di sboscamento selettivo che ogni anno giustamente la forestale fa, quindi questa conifera è stata impiantata per questa stazione, vi ricordo che c'è già una preesposizione per sempre che io ho realizzato quando ero assessore, abbiamo finito di addobbarla e a brevissimo la accenderemo. Buon Natale a tutta la mia città! Buon Natale a tutta la mia città!